La partecipazione italiana curata dal Ministero per la Stampa e Propaganda alla mostra documentaria politica inaugurata a Tokyo per iniziativa del diffusissimo quotidiano Niki Niki. La vita del duce dall'infanzia alla guerra, dal giornalismo alla rivoluzione, la marcia su Roma, la opera del regime nel campo morale e in quello materiale, esaltate in fotomontaggi di impressionante evidenza, costituiscono una sintetica ma chiara documentazione dell'Italia fascista, delle realizzazioni del regime e della nostra potenza militare. Hanno concorso alla raccolta del materiale necessario i ministeri della guerra, della marina, dell'area nautica, dell'Africa italiana, delle corporazioni, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, le organizzazioni del regime, l'ispettorato per la preparazione pre e post militare, il turismo, la federazione per la lotta contro la tubercolosi e il genio italiano all'estero. La mostra è completata da pubblicazioni di propaganda a disposizione dei visitatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.